Salani presenta, per la collana Anche i giovani leggono i classici, il giocatore di Fyodor Dostoevsky. Letto da Edoardo Scarpetta. 1. Sono finalmente tornato dopo un'assenza di due settimane. I nostri si trovavano già da tre giorni a Rulettenburg. Mi immaginavo che mi aspettassero con chissà quale ansia, ma invece mi ero sbagliato. Il generale aveva un'aria estremamente indipendente. Mi ha parlato guardandomi dall'alto in basso e mi ha spedito direttamente dalla sorella. È chiaro che sono riusciti a scroccare dei soldi da qualche parte. Mi è parso perfino che il generale si vergognasse un po' di guardarmi. Maria Filippovna era terribilmente presa da certe sue faccende e mi ha parlato con aria un po' distaccata. Comunque ha preso i soldi, li ha contati ed ha ascoltato tutto il mio rapporto. Per pranzo aspettavano Miesienzov, il francesino, e per giunto anche un inglese. Come al solito, appena ci sono i soldi, ecco che ti invitano gente a pranzo, all'uso moscovita. Polina Aleksandrovna, vedendomi, mi ha chiesto perché mai ci avevo messo tanto tempo. E poi, senza aspettare risposta, se n'è andata per i fatti suoi. Naturalmente l'ha fatto apposta. Comunque bisognerà spiegarsi. Troppe cose si sono accumulate. Mi hanno assegnato una stanzetta al terzo piano. Qui tutti sanno che faccio parte del seguito del generale. Da tutto quanto si vede benissimo che sono riusciti a farsi conoscere anche qui. Qui tutti considerano il generale un gran signore russo, ricco sfondato. Ancora prima di pranzo, tra altre commissioni, ho trovato il tempo di mandarmi a cambiare due biglietti da mille franchi. Li ho cambiati all'ufficio dell'albergo e ora per almeno tutta una settimana ci considereranno come dei milionari. Volevo prendere con me Mischa e Nadia e portarli a passeggio, quando già sulla scala mi hanno chiamato dicendo che il generale mi voleva. A sua eccellenza, era venuto in mente di informarsi dove li avrei condotti. Decisamente quest'uomo non è capace di guardarmi dritto negli occhi. Lui magari ne avrebbe una gran voglia, ma io ogni volta lo guardo così fissamente, e cioè così poco rispettosamente, che lui finisce per cadere nell'imbarazzo. Con un lungo discorso estremamente ampolloso, infilzando a fatica una frase dopo l'altra e alla fine confondendosi del tutto, mi ha fatto capire che io dovevo andare a passeggio con i bambini da qualche parte lontano dal casino, nel parco. Alla fine, perdendo decisamente le staffe, ha aggiunto bruscamente e lei magari sarebbe capace di portarli proprio al casino, alla roulette. Lei mi scuserà, ha aggiunto poi, ma io so che lei è ancora abbastanza sconsiderato e magari sarebbe anche capace di giocare. In ogni caso, anche se io non sono certo il suo mentore e non desidero minimamente assumere una tale parte, ho comunque pur sempre il diritto di desiderare che lei, per così dire, non mi comprometta. Ma il fatto è che non ho neppure del denaro? Gli ho risposto con la massima calma. E per poter perdere al gioco, bisogna averne. Lei lo riceverà immediatamente, ha replicato il generale arrossendo un po'. Quindi si è messo a frugare nella scrivania e ha consultato un tacquino scoprendo che mi doveva circa centoventi rubli. E ora come facciamo a regolare i conti? Ha detto allora il generale. Bisogna calcolare quanto fa in talleri. Beh, per adesso prenda questi cento talleri e quanto al resto stia tranquillo che non lo perderà. Ho preso il denaro in silenzio. Lei forse si sarà offeso per le mie parole, è così suscettibile, ma se le ho fatto un'osservazione è stato soltanto per così dire per metterla in guardia e del resto ne ho anche un certo diritto. Tornando a casa prima di pranzo con i bambini, ho incontrato tutta una cavalcata. I nostri erano andati a vedere certe rovine. Avevano preso due splendidi calessi con dei magnifici cavalli. In un calesse c'era Mademoiselle Blanche con Maria Filippovna e Polina. Il francesino, l'inglese e il nostro generale erano a cavallo. I passanti si fermavano a guardare. L'effetto era pienamente raggiunto. Ma per il generale le cose si mettono male. Ho calcolato che con i 4.000 franchi che ho portato, aggiungendoci quello che evidentemente erano riusciti a scorcare, adesso disponiamo di circa 7 o 8.000 franchi. Sempre troppo poco per Mademoiselle Blanche. Anche Mademoiselle Blanche è alloggiata nel nostro arbergo insieme con la madre. E in non so quale stanza ci è alloggiato anche il nostro francesino. I lacquais lo chiamano Monsieur Lecomte e chiamano la madre di Mademoiselle Blanche Madame la Comtesse. In fin dei conti può anche darsi che siano davvero Conte e Contessa. Sapevo già da prima che Monsieur Lecomte non mi avrebbe riconosciuto quando ci saremmo ritrovati tutti insieme a pranzo. Al generale, naturalmente, non sarebbe mai venuto in mente di farci far conoscenza e neppure di presentarmi a lui. Quanto a Monsieur Lecomte, lui era già stato in Russia e sapeva benissimo che quello che chiamano Ucitel è un pesce piccolo. Del resto, lui mi conosce benissimo. A dire il vero, io stesso mi ero presentato a pranzo senza essere stato invitato. Evidentemente, il generale si era dimenticato di dare disposizioni. Altrimenti mi avrebbe certo mandato a pranzare alla Tabla d'Hutte. Mi sono presentato a tavola di mia iniziativa. Tanto che il generale mi ha guardato con aria scontenta. La buona Maria Filippovna mi ha subito indicato il mio posto. Ma l'incontro con Mr. Astley mi ha tolto d'impaccio e così, volente o nolente, mi sono trovato a far parte della compagnia. Avevo incontrato per la prima volta questo strano inglese in Prussia. Ci eravamo trovati seduti l'uno di fronte all'altro in un vagone ferroviario mentre io raggiungevo i nostri. Poi l'avevo incontrato di nuovo entrando in Francia e infine in Svizzera. Così, nel corso delle ultime due settimane, l'avevo incontrato due volte e adesso me lo trovavo davanti a Roulettenburg. Non mi è mai capitato in vita mia di incontrare un uomo più timido di lui. È timido fino all'idiozia ma naturalmente ne è perfettamente cosciente già che non è affatto sciocco. Del resto è una persona molto tranquilla e amabile. Quando l'avevo incontrato la prima volta in Prussia l'avevo costretto a chiacchierare. Mi aveva detto allora che in estate era stato a Caponord e che aveva molta voglia di recarsi alla fiera di Nisni Novgorod. Non so come abbia fatto conoscenza col generale ma mi sembra che sia perdutamente innamorato di Polina. Quando lei è entrata lui si è fatto di fuoco. È stato molto contento che a tavola io gli sedessi accanto e sembra che mi consideri ormai come suo intimo amico. A tavola era il francesino a tenere banco. Si dava con tutti delle arie piene di non curanza e di sussiego ma a mosca a quanto mi ricordo boccheggiava come un pesce. Ora invece si riempiva la bocca di discorsi sulle finanze e sulla politica russa. Di tanto in tanto il generale si azzardava a contraddirlo ma lo faceva con timidezza tanto per cercare di arrestare il crollo definitivo del proprio prestigio. Io mi trovavo in una strana disposizione di spirito. Naturalmente prima che si fossi arrivati alla metà del pranzo mi ero già posto la mia solita ed eterna domanda perché stavo ancora lì a perdere il tempo con quel generale non li avevo piantati in asso già da un pezzo tutti quanti. Ogni tanto gettavo un'occhiata a Polina Alexandrovna ma lei nemmeno si accorgeva della mia presenza. È andata a finire che mi sono arrabbiato e ho deciso di fare qualche impertinenza. È cominciato così tutta un tratto di punto in bianco ad alta voce senza chiedere il permesso a nessuno mi sono immischiato nella conversazione. L'essenziale era che avevo una gran voglia di attaccar briga col francesino. Così a un tratto mi sono rivolto al generale a voce alta e ben distinta e a quanto mi sembra tagliandogli la parola in bocca ho osservato che quell'estate per un russo era quasi impossibile pranzare alla tabla dotto di un albergo. Il generale mi ha fissato addosso uno sguardo meravigliato. Una persona che abbia un po' di amor proprio ho continuato io imperterrito si troverà immancabilmente a essere oggetto di insolenze e dovrà sopportare delle straordinarie mortificazioni. A Parigi sul Reno e perfino in Svizzera alle tabla dot ci sono tanti di quei polacucci e di quei francesini simpatizzanti che per un russo non c'è possibilità di dire una parola. Avevo detto questo in francese. Il generale mi guardava perplesso non sapendo bene se dovesse arrabbiarsi con me oppure soltanto meravigliarsi che io avessi trasceso fino a quel punto. Significa che da qualche parte ha trovato qualcuno che le ha dato una lezione ha osservato il francese con area disprezzante non curanza. A Parigi ho attaccato briga con un polacco ho risposto io e poi con un ufficiale francese che appoggiava il polacco ma poi una parte dei francesi presenti è passata dalla mia parte quando ho raccontato che volevo sputare nel caffè di un monsignore sputare ha chiesto il generale con dignitosa e scandalizzata meraviglia guardandosi perfino intorno. il francesino mi ha gettato un'occhiata incerta proprio così ho risposto io siccome per due giorni interi ero convinto che probabilmente avrei dovuto fare un salto a Roma per i nostri affari mi sono recato alla cancelleria dell'ambasciata del santo padre a Parigi per farmi vistare il passaporto la sono stato ricevuto da un abatino sui 50 anni asciutto come un chiodo e dalla fisionomia gelida il quale dopo avermi ascoltato mi ha pregato cortesemente ma freddamente di aspettare sebbene avessi fretta naturalmente mi sono seduto ad aspettare ho tirato fuori l'opinion nazionale e mi sono messo a leggere le più terribili insolenze contro la Russia intanto ho sentito che qualcuno passando dalla stanza accanto veniva introdotto da Monsignore e ho visto il mio abatino che si profondeva in inchini allora mi sono rivolto a lui ripetendo la mia richiesta e di nuovo lui mi ha pregato seccamente di aspettare poco dopo è entrato un altro sconosciuto evidentemente per qualche faccenda un austriaco è stato ascoltato e subito è stato accompagnato di sopra allora mi sono seccato sul serio mi sono alzato sono andato dall'abbate e gli ho detto con decisione che dal momento che Monsignore riceveva poteva sbrigare anche la mia faccenda l'abbate allora si è scostato da me guardandomi con straordinaria meraviglia evidentemente per lui era assolutamente incomprensibile che un qualsiasi russo da quattro soldi osasse paragonarsi agli ospiti di Monsignore col tono più insolente quasi si rallegrasse di potermi offendere mi ha misurato con un'occhiata dalla testa ai piedi e ha gridato e così lei si immagina che Monsignore lascerà per lei il suo caffè allora io mi sono messo a gridare più forte di lui allora sappia che io ci sputo dentro al caffè del vostro Monsignore e se lei non mi vista immediatamente il passaporto andrò io stesso da lui come proprio nel momento in cui c'è da lui un cardinale ha gridato l'abbatino scostandosi da me inorridito quindi si è precipitato sulla porta allargando le braccia a formare una croce e esprimendo con tutto il suo aspetto la risoluzione di morire piuttosto che lasciarmi passare allora gli ho risposto che io sono un eretico e un barbaro che je suis eretique e barbar e che per me tutti quegli arcibescovi cardinali monsignori eccetera eccetera non valevano un fico secco insomma gli ho fatto capire che non avrei desistito allora l'abbate mi ha fissato con una rabbia indescrivibile poi mi ha strappato il passaporto di mano e se l'è portato di sopra un minuto più tardi il passaporto era già avvistato eccolo qui non volete darci un'occhiata e così dicendo ha tirato fuori il passaporto e ho mostrato il visto papale lei comunque cominciava a dire il generale lei è stato salvato dal fatto di dichiararsi un barbaro e un eretico ha osservato sogghignando il francesino se l'anete passibet dovrei forse fare come questi nostri russi loro se ne stanno seduti lì senza osar di fiatare e magari sono pronti a negare di essere russi per conto mio ho notato che a Parigi nel mio albergo hanno cominciato a trattarmi con molto più riguardo quando ho raccontato a tutti del mio scontro con l'abate un grasso pan polacco che mi era più ostile di tutti alla table dot ha cominciato da allora a scendere in secondo piano i francesi dell'albergo sono addirittura arrivati a tollerarmi quando ho raccontato che due anni prima avevo visto un uomo su cui un soldato francese del corpo dei cacciatori dell'anno 1812 aveva sparato un colpo di fucile al solo scopo di scaricare l'arma a quell'epoca quell'uomo era un bambino di 10 anni e la sua famiglia non aveva fatto a tempo ad abbandonare Mosca questo non può essere è scattato su allora il francesino un soldato francese non sparerà mai su un bambino eppure è successo ho replicato io me l'ha raccontato un rispettabile capitano a riposo e io stesso ho visto la cicatrice della pallottola sulla sua guancia il francese allora si è messo a parlare molto e in fretta il generale ha cominciato a dire qualcosa per appoggiarlo ma io gli ho consigliato di leggere almeno per esempio dei passi delle memorie del generale Pierowski che nel 1812 era stato prigioniero dei francesi alla fine Maria Filippovna si è messa a dire qualcosa per truncare quella conversazione il generale era evidentemente molto scontento di me già che tanto io che il francese ci eravamo quasi messi a gridare ma a quanto pare la mia discussione col francese è piaciuta molto a Mr. Astley che alzandosi da tavola mi ha proposto di bere un bicchierino con lui la sera come c'era da aspettarsi sono riuscito a parlare per un quarto d'ora con Polina Alexandrovna la nostra conversazione si è svolta durante la passeggiata erano tutti andati nel parco verso il casino Polina si è seduta su una panchina davanti alla fontana e ha mandato Nadienka a giocare poco lontano con gli altri bambini anche io ho permesso a Miscia di andare alla fontana e così finalmente siamo rimasti soli da prima naturalmente abbiamo cominciato a parlare di affari Polina si è addirittura arrabbiata quando le ho consegnato in tutto settecento fiorini lei era convinta che impegnando i suoi brillanti le avrei portato da Parigi almeno duemila fiorini e forse anche di più mi occorrono dei denari a qualsiasi costo mi ha detto e bisogna procurarseli altrimenti sono semplicemente perduta ho preso a interrogarla su ciò che era successo durante la mia assenza praticamente nulla a parte il fatto che da Pietroburgo sono giunti due dispacci da prima che la nonna stava molto male e due giorni dopo che a quanto sembra era già morta questa notizia viene da Timofi ai Petrovic aggiunse Polina e quello è un tipo molto preciso si attende un ultimo definitivo messaggio e così qui tutti sono in aspettativa ho chiesto naturalmente tutti e tutto per mezzo anno intero non hanno fatto altro che sperare in questo e anche lei spera ho chiesto ancora ma io non le sono affatto parente sono soltanto la figliastra del generale tuttavia so con certezza che lei si ricorderà di me nel testamento ho l'impressione che lei riceverà parecchio ho affermato io con sicurezza sì mi voleva bene ma perché proprio lei ha questa impressione mi dica un po' ho detto io replicando a mia volta con una domanda anche il nostro marchese a quanto pare deve essere ben informato su tutti i segreti di famiglia vero? e a lei cosa gliene importa? ha replicato Polina seccamente fissandomi con uno sguardo severo sfido io se non mi sbaglio il generale deve aver già fatto in tempo a farsi prestare dei soldi da lui lei indovina molto esattamente ma certo avrebbe forse dato i denari se non avesse saputo della nonnina lei avrà notato che a tavola parlando della nonna tre o quattro volte lui l'ha chiamata nonnina la bobulinca che rapporti intimi e affettuosi sì lei ha ragione non appena lui saprà che anche a me toccherà qualcosa per testamento subito chiederà la mia mano era questo che voleva sapere soltanto allora chiederà la sua mano ma io credevo che già da un pezzo l'avesse chiesta lei sa benissimo che non l'ha fatto esclamò con fuoco Polina dove ha conosciuto quell'inglese? aggiunse dopo un minuto di silenzio sapevo già che mi avrebbe chiesto di lui così le ho raccontato dei miei precedenti incontri in viaggio con mister Astley è un tipo timido e facile a innamorarsi naturalmente è innamorato di lei sì è innamorato di me ha risposto Polina e naturalmente lui è dieci volte più ricco del francese ma il francese poi possederà davvero qualcosa? non c'è qualche dubbio in proposito nessun dubbio lui ha un chateau ancora ieri il generale me ne ha parlato con assoluta sicurezza ebbene è soddisfatto adesso? al suo posto io sposerei senz'altro l'inglese e perché? ha chiesto Polina il francese è più bello ma è più vile l'inglese invece oltre a fatto che è un uomo d'onore è anche dieci volte più ricco ho risposto sì ma in compenso il francese è marchese ed è anche più intelligente ha risposto Polina con la massima calma ma questo è poi vero? ho continuato io nello stesso tono assolutamente vero a Polina davano terribilmente fastidio le mie domande e io mi accorgevo che lei aveva una gran voglia di irritarmi con il tono e il carattere paradossale delle sue risposte così gliel'ho detto subito ebbene ha replicato lei io mi diverto davvero a vedere che lei va su tutte le furie già solo per il fatto che le permetto di far tali domande e avanzare tali supposizioni bisognerà bene che gliela faccia pagare in realtà io mi considero nel pieno diritto di farle qualsiasi domanda ho risposto io con la massima calma e proprio perché sono pronto a pagare per questo nel modo che le parrà opportuno ormai non do più nessun valore alla mia vita Polina scoppiò a ridere la scorsa volta sullo Schlangenberg lei mi ha detto che a una mia sola parola era pronto a gettarsi a capofitto di sotto e la sembra che il precipizio sia a profondo mille piedi una volta o l'altra io pronuncerò quella parola unicamente per vedere se lei saprà pagare il debito e stia pur sicuro che farò fino in fondo la mia parte lei mi è odioso proprio per il fatto che le ho permesso tanto e mi è ancora più odioso per il fatto che mi è così necessario ma per ora ho bisogno di lei e devo risparmiarla intanto si era alzata il suo tono era molto irritato negli ultimi tempi Polina concludeva ogni conversazione con me con irritazione e con rabbia con vera autentica rabbia mi permetta una domanda che roba è questa mademoiselle Blanche le ho chiesto allora perché non volevo lasciarla andare senza una spiegazione lei stesso sa benissimo che roba è mademoiselle Blanche da allora non c'è stato nulla di nuovo mademoiselle Blanche diventerà probabilmente generale essa naturalmente a patto che le voci sulla morte della nonna siano confermate già che tanto mademoiselle Blanche quanto la sua mammina e il marchese Cousin in terzo grado sanno tutti quanti benissimo che noi siamo sull'astrico e il generale è irrimediabilmente innamorato adesso non si tratta di questo ascolti e tenga bene a mente prenda questi settecento fiorini e vada a giocare vinca per me alla roulette quanto più può ora ho bisogno di denaro a qualsiasi costo detto ciò ha chiamato una dienca e si è avviata verso il chiosco della musica dove si è riunita a tutto il resto della compagnia io invece ho svoltato a sinistra per il primo vialetto che mi è capitato davanti assorto in una stupita meditazione l'ordine di andare a giocare alla roulette mi aveva lasciato stordito come se avessi ricevuto un'ammazzata in testa strana cosa avevo anche troppe cose a cui pensare e invece mi sono immerso tutto nell'analisi dei miei sentimenti verso Polina è vero che mi ero sentito più leggero in quelle due settimane di assenza che non adesso che ero appena tornato sebbene durante il viaggio fossi divorato dalla nostalgia come un pazzo mi dimenassi come un ossesso e perfino in sogno me la vedessi continuamente davanti una volta mi trovavo in Svizzera mi ero addormentato in treno e a quanto pare mi ero messo a parlare ad alta voce con Polina cosa che aveva fatto ridere tutti i viaggiatori che sedevano nello stesso scompartimento e adesso di nuovo mi ponevo la stessa domanda l'amavo o non l'amavo e di nuovo mi sentivo incapace di rispondervi per meglio dire per la centesima volta di nuovo mi rispondevo che l'odiavo sì mi era odiosa c'erano degli istanti specialmente alla conclusione di tutte le nostre conversazioni che avrei dato la metà della mia vita per poterla strangolare giuro che se mi fosse stata data la possibilità di affondare lentamente un coltello affilato nel suo petto ebbene io l'avrei fatto con vero godimento eppure allo stesso tempo lo giuro per tutto ciò che c'è di più sacro se sullo schlangenberg su quella vetta alla moda lei mi avesse davvero detto si butti di sotto ebbene io mi sarei immediatamente buttato e perfino con piacere questo lo sapevo in un modo o nell'altro la questione andava risolta lei comprendeva benissimo tutto ciò e il pensiero che io avevo la più chiara e piena coscienza di quanto lei fosse per me inaccessibile e di come mi fosse impossibile realizzare le mie fantasie ebbene questo pensiero ne sono convinto le arrecava uno straordinario piacere altrimenti avrebbe mai potuto lei intelligente e prudente com'era intrattenere con me dei rapporti così franchi e intimi mi sembra che lei si comportasse con me come quell'antica imperatrice che si spogliava in presenza del suo schiavo non considerandolo un uomo sì molte volte lei non mi considerava un uomo comunque avevo ricevuto un suo ordine vincere alla roulette a qualsiasi costo non avevo il tempo di starci a pensar su o di chiedermi perché mai fosse così necessario e urgente vincere al gioco e quali nuove idee fossero spuntate in quella testa eternamente assorta in nuovi calcoli evidentemente in quelle due settimane a tutto il resto si è raggiunta una quantità di fatti nuovi di cui io non avevo ancora l'idea bisognava indovinare e penetrare tutti questi fatti e al più presto ma ora come ora non c'era tempo bisognava andare a giocare alla roulette 2 confesso che la cosa mi riusciva spiacevole sebbene avessi deciso che avrei giocato tuttavia non mi sentivo affatto disposto a cominciare giocando per altri ciò arrivava addirittura a sconcertarmi un po' tanto che entrai nelle sale da gioco profondamente indispettito fin dalla prima occhiata là dentro non mi piacque nulla non posso assolutamente soffrire il tono servile dei foglieton di tutto il mondo